Non ci faremo intimorire da nessuno. Questo è il commento della funzione pubblica CGL dopo la scoperta dell'atto intimidatorio e danni del rappresentante sindacale presso l'ASP 5, segretario aziendale presso il presidio di Milazzo Riccardo Siragusano. Qualcuno durante la notte ha tagliato i copertoni della sua auto. La brutta sorpresa è stata trovata stamattina da Siragusano che ha subito avvertito le forze dell'ordine e il sindacato che ha incalzato il commissario dell'ASP Manlio Magistri chiedendogli un forte intervento. Da tempo la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente per definire tutta l'avvertenza che ruota intorno all'ospedale di Milazzo, ma fino a oggi da parte dell'azienda sanitaria l'unica risposta è stata il silenzio. Non vorremmo, dichiarano la segretaria generale Clara Croce, il segretario del settore Carmelo Pagana, il segretario della funzione pubblica CGL Medici Attilio Andriolo, che il grave atto intimidatorio fosse collegato proprio all'impegno e all'azione di difesa e della sicurezza sul posto di lavoro messa in campo da Riccardo Siragusano nella qualità di delegato aziendale. Nell'esprimere massima solidarietà siragusano la funzione pubblica CGL ha già annunciato che è pronta a mettere in campo ogni iniziativa utile per ripristinare la legalità presso il presidio ospedaliero di Milazzo e ha programmato l'assemblea degli iscritti per definire le azioni da intraprendere e il segnale per far capire che non ci facciamo intimorire da nessuno, hanno detto.